Come vede adesso il futuro del calcio? Innanzitutto sono onorato di essere qui in questa platea di gente che ama il calcio e che lo serve in qualche modo in maniera straordinaria, quindi buongiorno a tutti quanti. Sì, diciamo che mi hanno dato del visionario e tutto quello che io prevedevo poi è accaduto, ma io vengo dal cinema, ho fatto cinema per 50 anni, ancora continuo a farlo, ho prodotto e distribuito più di 400 film e io ho considerato sempre il pubblico il mio vero committente. Se io avessi dovuto fare solo i film che piacevano a me non avrei mai avuto successo, invece io cercavo di interpretare le tendenze del pubblico, del mercato e quindi indovinavo sempre, è rarissimo che il mio film sia andato male, forse uno o due su 400 non fanno proprio la regola. nel calcio, nel calcio io non sapevo nulla perché venivo dal basket, avevo giocato a basket da bambino e non conoscevo proprio i termini del gioco, ma questo per me è stato un vantaggio. Perché? Perché ho sempre interpretato il mondo del calcio come un mondo di intrattenimento, quindi come un'industria, un'industria schiava però di alcune istituzioni che dovendosi mettere il vestito del comando hanno limitato lo sviluppo del calcio che si è trovato sempre a essere più indebitato e meno amato soprattutto dal pubblico dei giovanissimi e soprattutto schiavo della pirateria che non ha mai saputo dominare. Allora quando tu vedi che dei bambini e degli adolescenti guardano sui loro smartphone o sui loro tablet, un'infinità di altri giochi, amano giocare a calcio perché quando gli metti un pallone sui piedi loro amano giocare, amano imitare i grandi eroi del calcio, ma se tu li metti per 90 minuti che ormai sono diventati 110, 115, chissà mai quando si arriverà come nel basket ad avere il vero tempo giocato, forse sarà sempre troppo tardi trovare la verità negli altri sport che già praticano determinate pratiche noi nel calcio non si sa per quale motivo le rigettiamo, non le applichiamo e questi bambini a un certo punto non hanno la pazienza di vedere qualcosa che giudicano vecchio, statico, non spettacolare, lento. Allora se voi immaginate che Infantino che è presidente della FIFA non si preoccupa di dire ma il fuorigioco, perché una volta che è finita l'azione il guardia linea deve alzare la bandierina? E se il portiere e gli attaccanti e i difensori hanno un incidente e mi vanno fuori squadra per due, tre, sei mesi li ripaga Infantino? Ma ci vuole così tanto a dire ragazzi il fuorigioco ormai con il VAR arriva lo stacco e uno si ferma cioè ma c'è l'idiozia più totale che a me delle volte mi meraviglia moltissimo Mi scusi se la interrompo, come lo vorrebbe allora riformare questo calcio? Prima me l'ha descritto malato Ma no, il calcio è malato, è malato soprattutto perché l'economia del calcio è malata cioè si iscrivono ai campionati club che non hanno la capacità economica di poter competere allora vuol dire che le competizioni non portano a casa sufficienti proventi allora quando per esempio la UEFA dice adesso io in Champions vi darò 2 miliardi e 400 e rotti milioni in Europa League vi darò più di 500 milioni in Conference League vi darò 238 milioni e ho capito ma se poi tutti quanti sono pieni di debiti vuol dire che questi soldi non bastano Perché non è un calcio sostenibile? Non è sostenibile ma soprattutto si gioca troppo Allora quando tu giochi troppo finisci anche per inflazionare l'interesse del pubblico Veda, io amo molto le PETV perché vengo dal cinema e per un periodo sono state al servizio del cinema in maniera importante negli Stati Uniti ma poi il tempo va avanti Allora oggi come oggi se tu vuoi recuperare pubblico devi andare free on air Quindi calcio gratis per tutti? Gratis per tutti E allora però devi essere l'imprenditore che sa raccogliere una quantità di pubblicità gigantesca che ti possa portare sul tavolo 5 miliardi, 10 miliardi, 20 miliardi, 100 miliardi Dipende da che cosa tu fai vedere al pubblico e come glielo fai vedere E come glielo vuole far vedere? Tesoro mio qui entriamo nel discorso degli stadi Gli stadi in Inghilterra sono stati rifatti molti anni fa Lei non ha appena rinnovato il Maradona? No, io il Maradona non l'ho rinnovato perché il Maradona veda in Italia gli stadi nella maggior parte dei casi appartengono alle città Quindi alla municipalità, al cosiddetto comune, il quale ha un bilancio sempre in rosso Allora che cosa succede? Che te lo affitta ma te lo dà solo per la giornata in cui tu devi giocare Quindi è un disastro perché le strutture sono fatiscenti E non sono da un punto di vista ricettivo confortevoli e spettacolari per il pubblico Non solo ma anche le riprese televisive Io che vengo dal cinema, quante volte ho cercato di dire No scusatemi, il regista lo scelgo io Deve essere sempre lo stesso Non è che la lega Perché poi noi abbiamo i nemici anche nella nostra lega Perché questo istituzionalismo vige sovrano ovunque Nelle federazioni, nelle leghe Chi più ne ha più ne metta Tutti devono poter parlare per giustificare il proprio stipendio Allora che cosa succede? Io al regista dico Guarda che tu mi devi mettere le telecamere in maniera tale Che chi vede a casa la partita la possa vivere sul campo Non è possibile che io quando vedo la Formula 1 Vedo qualunque cosa, qualunque dettaglio Mi emoziono, partecipo Credo di essere addirittura io al posto del pilota E nel calcio questo non avviene Chi selezionerebbe come regista? No ma ci sono dei registi specializzati Per esempio quello che ha fatto la finalissima Tra Argentina e Francia È stato un ottimo regista E io di fatti prendo sempre quella partita La faccio vedere ai registi Quando li cambiamo ogni tanto Perché delle volte si possono ammalare Possono avere un matrimonio Possono avere un problema Un battesimo Quindi sono assenti E io dico guardatevi questa partita Così voi la dovete realizzare Poi ovviamente lo stadio Se è concepito male Se hai una pista d'atletica Non puoi Tu immagina che a Roma La capitale dell'Italia Ci sono due squadre di calcio Che giocano all'Olimpico Dove c'è la pista d'atletica E lì davanti al Presidente della Repubblica Si fa la finale di Coppa Italia Cioè raggiungiamo delle Così vette Di incapacità Che non trovano Ragione proprio di esistere Ora quindi nel calcio Sì è vecchio Il calcio si è invecchiato Si è invecchiato il gioco del calcio Bisognerebbe mettere seduto al tavolo Tutti quanti Fermarsi un attimino Perché il nostro è un grande circo Dove uno non si deve mai fermare Perché così non ha il tempo di pensare E nessuno si può ribellare E quindi i signori Che stanno on command Per difendere il loro potere Che gli permette di andare a parlare Con i Presidenti degli Stati X Y Di viaggiare con jet privati E compagnia bella Continuano a fare Il loro indistubbatamente lavoro Certo lei Parlavamo prima Del ruolo che hanno gli agenti Che è un ruolo Sempre più ingombrante Se vuole All'interno del calcio Come vede Il ruolo degli agenti Gli agenti Esclusa Qualche eccezione Di grande professionalità Sono un cancro Del calcio Perché Innanzitutto Io non capisco Per quale motivo Non si possa Liberalizzare Il numero di anni Contrattualmente Possibili Per mettere sotto Contratto Un calciatore Io dico Minimo 8 anni Allora Il problema È che quando tu hai Un contratto di 5 anni La gente cosa ha fatto È andato A prendersi Quel calciatore Che ha una condizione Non eccezionale Familiarmente parlando E culturalmente parlando E foraggiando I genitori I fratelli E lo stesso calciatore Se lo portano Dalla loro parte Che cosa succede? Che tu magari Al secondo anno Del tuo contratto di 5 Non riesci ad estendere Ulteriormente il contratto Arriva un altro agente Che fa vedere il paradiso A questo calciatore Al genitore E se lo porta via Allora lui ci deve guadagnare Allora cosa deve fare? Bussa da te Dire No, guarda Tu non puoi dare più 3 milioni A questo calciatore Gli devi dare almeno 13 Se no io lo porto via Ma poi perché lo vuol portare via? Perché lui portandolo Da un'altra parte Ha una sua possibile entrata eccezionale Io mi ricordo il povero Mino Raiola Eravamo amici Quando io scoprì Haaland Che per me era un grandissimo giocatore I miei tutti preoccupati Perché non era ancora il giocatore Che dava le certezze che dà Haaland al Salisburgo? Haaland al Salisburgo Io lo volevo comprare per 50 milioni E Mino Raiola mi portò In un mio salotto E mi disse Senti di là Non le dire queste cose Noi siamo amici Per Haaland Ho già provveduto io Non ti preoccupare Non ti mettere in mezzo Ti prendi Dico vabbè Mino Facciamo così Abbiamo fatto finta di parlare Ok d'accordo Perché lui già aveva organizzato tutto Aveva percorso i suoi Chissà quali benefits Per se stesso Per la sua società Eccetera eccetera Dopo abbiamo Ibrahimovic Che era un grande fan di Mino Sì ma Ibrahimovic è anche Ibrahimovic è una persona straordinaria Con Los Angeles Siamo stati sempre a cena insieme Con i suoi figli Ha fatto anche una parte L'altro anno In una mia serie televisiva Ibrahimovic è una persona Straordinaria Però Proprio perché straordinario Si fidava di Mino Perché Mino Lo ha portato anche Dove lui è arrivato No ma Mino era Professionalmente ineccepibile Però chiaramente Faceva i suoi interessi Non certo gli interessi Del club I club Se si sono indebitati Si devono dare una svegliata E devono dire Noi in autonomia Dobbiamo Preservare I nostri bilanci Dobbiamo far Combinare i fattori Della produzione Secondo quelle che sono Le regole Di un mercato Che commercialmente Sia sostenibile E affrontabile Il salary cap Diciamo Il tetto sui salari È accettabile? No Perché lei Che se stabilisse Un salary cap Appiattirebbe tutto Ma veda Io poi faccio Un discorso Sulla Imprenditorialità Cioè Per me il calcio È impresa Allora Un imprenditore Deve essere Un imprenditore Non deve essere Un taker Perché se no Dimentica La I e la M A casa E fa solo Il prenditore Allora Voglio dire Se tu fai L'imprenditore Devi poter investire Sulle tue idee Le devi portare avanti Devi convincere Gli altri Che cosa è giusto Veda I campionati Dal mio punto di vista Sono la cosa Più importante Che ogni nazione Ha Il campionato nazionale Ma sono tutti Sbilanciati Quindi sono tutti Fallimentari Sa perché? Perché? Perché Se lei prende Un pilota Di karting Di formula 3 Di formula 2 Di formula 1 Questo pilota Che comincia Nel go kart Poi passa La formula 3 Poi passa La formula 2 E poi passa La formula 1 Un calciatore Passa Dalla third vision Alla second division Alla prima division A meno che Non sia un genio A 17 anni E va subito In first division Però Quando tu mi vuoi prendere La formula 3 La formula 3 Macchina Automobile E me la vuoi far Garreggiare Con la formula 1 Tu sei perdente Non funziona Non funziona Sei perdente Sia da un punto di vista Economico Sia da un punto di vista Competitivo Allora se tu mi prendi Una città Di 20 mila abitanti Di 50 mila abitanti Sì è vero che c'è Davide e Golia Ma questa è mitologia Allora Noi dobbiamo ragionare Se è industria Con dei parametri diversi E quindi Una città che ha 50 mila abitanti E che poi rischia Nello stadio virtuale Sai cos'è lo stadio virtuale? La televisione Bene Di avere 1500 viewer Quello abbassa L'interesse totale Del calcio italiano Quindi tu devi sempre Tenere alta La possibilità di dire Io esisto Sono uno spettacolo Fantastico Tutti mi vogliono vedere Mi sembra che lei parli Quasi di una superlega Che qualche anno fa Se non mi sbaglio Non le interessava Adesso L'hanno un po' riformata Dove c'è un po' più Un meccanismo di Dove si può andare su E giù Dalle varie classifiche E' interessata La nuova superlega? Guardi Dieci anni fa Prima che si parlasse Della superlega Io proposi Un campionato europeo Un campionato europeo Diverso dalla Champions? Complementare O diverso dalla Champions? Per me Il fatto di vedere Mi fa molto ridere Quando io vedo A Monte Carlo Che aprono queste palle Tirano fuori E dicono Io con chi debba giocare Non mi è mai piaciuto Va bene? Io voglio giocare Contro tutti Allora io devo fare Un campionato vero Come è un campionato nazionale Ci deve essere Un campionato europeo Per quelli Che hanno raggiunto Determinati risultati Che ogni anno Possono cambiare A seconda Dei risultati Che ottengono Nei campionati nazionali Bene Poi è venuta fuori La Superlega A me la Superlega È servita Perché Poiché in quel momento Io ero contrario Ai fondi Stavamo negoziando Con CFC Ed altri Ad Andrea Agnelli Dissi Che era Nella Superlega Dico Guarda Che loro Non vogliono Che ci sia Un altro Campionato Perché altrimenti Andiamo Con un deal breaker E dico quindi Devi votare contro E lui Difatti insieme a me Eravamo Nel committee Che parlava Con il fondo Abbiamo mandato A fondo Il fondo Va bene L'abbiamo Sink Ora Qual è il problema Dei fondi I fondi Sanno di calcio Secondo me no Me lo hanno dimostrato In sei mesi Di negoziazione Perché qua ci sono Tanti fondi E vabbè Mi dispiace per loro Il fondo Ha un concetto Di financing Io ho un concetto Di economics Allora Se io Ho un concetto Di corretta economia Ma io non ho bisogno Del fondo Perché io vado Da una qualunque banca Se sono un vero imprenditore Parlo Dimostro Che il mio progetto È valido E la banca Me lo finanzia Con un costo Anzi All'epoca I soldi Li regalavano Non costavano nulla Oggi ancora Io vedete Quando ho fatto Il mio primo film Era il 1974 Mi ricordo La banca Applicava Il 21% Di interessi passivi Eppure Eppure Noi riuscivamo A produrre Utili Profitti C'era anche Molta più crescita E oggi Perché siamo arrivati Al 4% Al 3% Tutti gridano E dicono Oddio Come si fa Ma dipende Dal progetto Se il progetto È buono E coserà Un 3% Di più Un 4% Di più Il problema È che molte volte Il progetto Non è buono E allora Quando mi viene Un fondo Io dico Scusami fondo Ma tu perché Vieni da me Perché ci vuoi guadagnare Perché i tuoi investitori Nel giro di 3 4 5 anni massimo Devono portare a casa Una percentuale Di redditualità Che sia importante Scusami Ma questa redditualità Se la fai te Me la sottrai a me Allora io sono Fesso Che mi faccio Sottrarre Da te Una redditualità Che appartiene a me Per la quale Io faccio gli investimenti Io Sostengo i miei supporters Io rischio Io compro I calciatori Vendo i calciatori Mi rompo le scatole Con gli allenatori Cioè faccio di tutto E tu arrivi E solo perché Mi dai dei soldi Vuoi diventare Quello che guadagna No guadagno io Scusami Ma come Siamo tutti quanti Pieni di debiti Anzi Il calcio Napoli Fortunatamente Chiude il bilancio Con 83 milioni di utili E una riserva A bilancio Di 147 milioni Che in Europa Non è male La sinistra italiana La sinistra italiana Ha trovato un nuovo leader De Laurentiis Contro i fondi Di private equity Ma vedi La politica Purtroppo Se si comportasse Come un imprenditore Forse farebbe meglio Io sono stato Io sono stato sorpreso Positivamente Dal risultato Della corte europea La quale dice Leviamo lo scettro Dell'unicità Alle istituzioni Calcistiche esistenti Non può esserci un veto Per la coesistenza Di altri tournament Quindi se c'è Un'altra organizzazione Un altro campionato Lei mi dice Sarò favorevole Sarò favorevole Se a un certo punto Questa superlega Sarà in grado Di essere Democraticamente Sul mercato E quindi Assolverà Il problema Del merito Perché uno Deve poter partecipare Per merito E non perché C'ha un pt grip Particolare Che siano sempre Gli stessi Ci deve essere Un tournament Tutto quanto Allora Io dico Se tu mi porti Cinque miliardi Sul tavolo Contro i due miliardi E quattro Della Champions League Beh Li accoglieremo A braccia aperte Mica siamo fessi No? Assolutamente Ma ha visto Dei passi in avanti Un'apertura Dalla parte Degli organizzatori Della Superlega Diciamo Ma veda Florentino Perez È una persona Di tutto rispetto È un vero imprenditore C'ha un fondo Che gestisce Parecchi Billions Internazionalmente Parlando Non credo Che abbia fatto Dei passi Sbagliati Il presidente Della Superlega È un'altra persona Che io ho conosciuto E con il quale Ho approfondito I loro Possibili programmi Sai Qui c'è una Una Copyline Che si può Esternare Chi vivrà Vedrà Eh Bisogna vedere Loro hanno detto Nel 2025 Noi siamo pronti Sarà così? E secondo lei La Superlega E la Champions League Possono coesistere? Ma secondo lei Con tutte le partite Del mondiale per club Voluto dalla FIFA Con l'aumento Delle partite Della Champions Con la non riduzione Dei club Nelle leghe nazionali Secondo lei Avremo il tempo Per fare i ritiri Preparatori Di pre-season O non ce li avremo? E allora A questo punto qui Secondo lei Se lo potranno permettere Solo quei club Che potranno avere 40 giocatori Dello stesso standing E forse Adesso dirò Una cosa Da visionario Sentiamo Per cui farò sorridere Molte persone Forse anche Due allenatori Uno Che mi faccia Il campionato nazionale E le coppe Italiane Tipo La Coppa del Re In Spagna La Coppa Italia In Italia Eccetera Eccetera E un altro Che farà Probabilmente La Coppa Della Superlega Chi lo sa Una squadra A Una squadra B Una squadra Ma no La squadra è sempre la stessa Perché lei deve poter Per cambiare A seconda di chi incontrerà Quella è la cosa bella Veda Io quando per esempio Vedo Il cartellino giallo A me mi fa ridere Mi fa tanta tenerezza O il cartellino rosso Mi fa prima tenerezza Poi mi fa rabbia Perché La classe arbitrale È una classe Che dovrebbe dipendere Dai club E con la quale I club Dovrebbero Dialogare Affinché Questi signori Non siano Una casta Ma siano Dei collaboratori È un referì No? Il referì Non può essere Un superbo Personaggio Quando ammetti Mi vai a espellere Un allenatore Uè Ma che sei pazzo Tu mi vai a espellere Un allenatore Ma io ti mando A quel paese Centomila volte Cioè L'allenatore Deve essere Dal club O Dalla UEFA O Dalla Lega O dalla Federazione Nazionale Multato Di centomila euro Se dice una bestemmia O se dice Una mala parola A uno Della classe arbitrale Ma non è che Può essere espulso Quello È l'allenatore Della squadra Cioè Noi Sembriamo Una barzelletta Sembriamo Flick e flock Quando vediamo Le partite A me mi viene Tante volte Io che faccio cinema Sembra una commedia Come vede Ci chiedono di chiudere Quindi le chiedo Magari Un'ultima domanda Il Napoli Andrà Al campionato mondiale Per club O no? A me mi dispiace Per Calvo Che fa parte Della Juventus Credo che sia Mi dispiace Perché Diciamo L'altro anno Loro sono stati Così Costretti Puniti Dalla UEFA Che quest'anno Li ha estromessi Dalle coppe europee Io Se dovessi Battere Il Barcellona Barcellona E dovessi Successivamente Fare un pareggio Una vittoria Di diritto Dovrei andare io Dovrei andare io Però dovrei andarci Comunque Perché secondo me Mi dispiace Per Calvo La Juventus Se è stata Eliminata Dalle coppe europee Non dovrebbe essere Nemmeno ammessa Al campionato del mondo Fermo restando Che poi Questo campionato del mondo Ci creerà Mille problemi Per il successivo Campionato nazionale Con questo La ringrazio moltissimo Presidente Grazie a voi